ciao a tutti ragazzi oggi faccio gli abbinamenti del secondo turno di dianne e buon niente adesso apro il sito che usavo per fare gli abbinamenti e... faccio oggi perchè ieri non ho avuto tempo quindi... ho deciso di farli oggi allora ok e... boh... non si è tutto vedi con i risultati eh... lupo conquistatore 199 vs castor 97 eh... vinto castor 97 2 0 Manuel Nicoletti vs Harry King vittoria a Harry King 2 0 Alvin trattino basso Wesker controverti 98 2 0 verti 98 eh... 9 punti esclamative Amy vs BLS 108 vittoria di 9 punti Amy che ha mancato cioè perchè non si è fatto trovare Ds 108 Zudash versus Crazy Joe vittoria di Crazy Joe 2 0 perchè Zudash non si è... non si è... non si è... non si è fatto trovare danny best in the world 98 vs 99 yuki master vittoria per danny 2 1 che caldo allora poi abbiamo teo 99 vs damano 2 0 damano scel 216 vs kiddon 50 2 0 kiddon 50 spongebob blue vs spellbook player 2 0 spongebob blue per mancato... mancato tentativo di... di battute insomma cioè perchè non... non si è presentato martin 21 26 vs sandrea beh fa 1 io non so cosa mettere metto un pareggio 1 1 batte riman 99 vs silario 99 vittoria di rilario 99 perchè batte riman 99 torsava l'agente 0 0 verso spit 99 2 0 anche lui però mancato tentativo di recapito a... agente 0 0 quindi ora mettiamo anzi no perchè devo fare ve li dico subito ragazzi gli abbinamenti sono cast 97 ok allora abbiamo un cast 97 ok ok allora abbiamo un cast 97 ok 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 l'altro ok 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 conti che c'era ragazzi 9 contro amy poi abbiamo credito contro contro credito la spazio poi non sto facendo niente ciao abbiamo chi non si può andare contro spongebob blu ovviamente quali di mancato tentativo cioè quali che non si sono presentate la prima partita tanto poi abbiamo non al bianco bianco ben martin 21 26 andrea beffa 1 sono cuore perchè non sono presentati io ho il 99 pitton 99 acqua partita di fumetteria ragazzi entrambi vengono nella mia spetteria e poi abbiamo quelli che hanno perso ovvero battere di mannano 99 vero su us c216 proiettiamo il 99 oltre 99 in rimasto Alvin, rettino basso, Wesker Contro V-Conquistatore 199 Passiamo in turniera, vi ripeto un secondo Ovviamente quelli che non si sono presentati Il primo turno sono fuori dal torneo Ma ragazzi, io l'avevo detto Turni sono, K97 con Harry King, Bert98 Versus Amy Crazy Joe vs. Stanno Tutto il 50 contro Spongebob Blue Ilario 99 vs. Peter 99 V-Conquistatore 99 V-Conquistatore V-Conquistatore Che era il 99 Dove, che era il 99 V-Conquistatore 99 al Bali Se ho sbagliato E poi Alvin, Wesker vs. Lupo Conquistatore 199 Ragazzi, c'è tempo fino a domani sera Ovvero... no, domani mattina Domenica, no, domani sera Domani sera il tempo è questo Mettetevi d'accordo voi ragazzi E... Niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao